La segnalazione, come spesso accade ultimamente, arriva dai social network. Una foto postata in località Ferie, frazione di pizzighettone, ritrae un uomo con delle erbacce più alte di lui davanti al cartello che indica l'ingresso nella frazione. E il cartello dei 50 all'ora? Se mi arriva la multa non la pago? Scherza l'uomo. Noi allora siamo andati a vedere e la situazione effettivamente sembra sfuggita di mano. L'erba è alta praticamente due metri, i cartelli stradali nemmeno si leggono. Ma Ferie sembra essere davvero una frazione dimenticata. Un centinaio di metri più avanti infatti ecco un cartello messo da un residente. Quando sistemano le griglie sulla strada? Anche in questo caso la situazione è al limite con la strada che addirittura si abbassa in corrispondenza delle griglie e ancor più verso il dislivello che dà sui terreni sottostanti. Buche molto profonde, asfalto sgretolato, griglie otturate. Sono in molti a lamentarsi perché a Ferie anche il comune sembra andato in Ferie.